Per cui poter poi gestire al meglio la distribuzione con Bruninho che ha dieci dita che sembra una pompa idraulica Tino Ornaut, Zavoronok, Walsh, la pipe di Zavoronok La presa a Tine, salvataggio da parte di Modena, mamma mia Con l'aiuto anche di Pinali, poi quello di Bruno, l'attacco di Finger Dipende ancora Pinali nel campo di Munza, free ball Walsh, primo tempo di Simone Budi Però non c'è muro lì, eh? No, 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 ipnotizzato, Elia Bossi, non sappia da che parte andare Molto bravo Budi perché si propone non con la veloce avanti ma va intesa al centro Poi il braccio di Budi lo sappiamo, non è un braccio velocissimo Lì un giocatore